Il Movimento 5 Stelle in consiglio regionale mette ai raggi X la situazione sicurezza delle scuole toscane. Circa la metà degli edifici scolastici della nostra regione sarebbe senza certificazione antincendio e secondo il rapporto dei geologi della Toscana l'80% non rispetterebbe le norme antisismiche. Per questo il Movimento 5 Stelle comincerà un tour nelle scuole toscane per far vedere lo stato dell'edilizia e chiede agli studenti di segnalare attraverso il sito web del Movimento Toscano i problemi strutturali delle loro scuole. Pensate che per fare una scuola nuova ci vogliono circa dei 10-12 milioni di euro, però non sempre è necessario demolirla e ricostruirla, a volte si possono fare degli adeguamenti statici degli edifici, cosa che è mancata in questi anni è stata proprio una manutenzione ordinaria, fino ad arrivare a situazioni drammatiche come quelle del Comune di Carrara dove abbiamo scuole completamente chiuse, disastrate. Il Movimento 5 Stelle Toscano nel prossimo Consiglio regionale solleciterà la Regione a investire di più e a chiedere i fondi europei per mettere in sicurezza gli edifici scolastici. Ci sono dei soldi europei, di fondi europei che la Regione deve chiedere. Attualmente nella programmazione regionale non è prevista nessuna ricerca di queste risorse. Addirittura nel piano regionale di sviluppo il Presidente Rossi prevede zero risorse per le scuole toscane. Giacomo Giannarelli, consigliere regionale pentastellato, sottolinea anche che in Toscana manca un'anagrafe dell'edilizia scolastica. Tra le varie tappe del Tour a 5 Stelle ci sarà l'Istituto Da Vinci di Firenze, le scuole della Lunigiana e della Retino.